Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda Cartoon Boat Turbighese. Quest'anno abbiamo voluto rendere il percorso ancora più impegnativo per quanto riguarda le nostre 24 squadre che stanno all'attivemente lavorando per preparare la loro Cartoon Boat. Abbiamo 285 metri di distanza e contiamo su degli affondamenti, ovviamente strada facendo, perché questo è il vero divertimento di questa giornata. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, siamo i vincitori dello scorso anno, siamo il team Carrozzeria Turbighese. Quest'anno il team è cambiato e comparto sempre da Cristiano, Lieto, Viaggio, Cennini Carlo, mio padre, io e in più oggi c'è anche Ronino è il figlio di uno dei favoriti dell'anno scorso. Ci diamo dentro la grande e veniamo di fare il meglio anche quest'anno. Ciao a tutti, noi siamo il Turbotanic 2 e oggi vinceremo questa gara. Senza fare un grandissimo affondamento come l'anno scorso. Sarà la rivencita dell'anno scorso. Parola del capitano. Forza Turbotanic. Siamo la squadra che si chiama Quelli del Comune, io sono sindaco, siamo vice sindaco, presidente del consiglio comunale e il già capogruppo è presidente della commissione. La nostra marca è in costruzione, come vedete, sarà una marca inaffondabile, speriamo. Puntiamo su un peso non massimo come la nostra Marzia per riuscire ad andare il più lontano e il più veloce possibile. Gian, Alezio, Piet, Althea, Pilaria, Peppo. Annegando Peppo! Che si capisca bene annegando Peppo. Annegheremo tutti. Siamo il team ufficiale Bella Vita del Bar, quindi non possiamo che essere i favoriti. Esatto. Per voi. Vinceremo come abbiamo vinto l'anno scorso. Puntiamo arrivati da Milano. Minimo Milano, quella prima liga che è la buttiamo giù anche quella. Comunque io sono Francio. Barca, Prince, Roberto. Siamo la Sea-Watch e sbarcheremo anche oggi. Emanuele Ducca, Mattio Sanfilippo, Daniele Gabrielli, Alevazzato, Jacopo. Dai, eh, eh, eh. Sbarcheremo anche oggi. Emanuele Ducca, Mattio Sanfilippo, Daniele Gabrielli, Daniele Gabrielli, Jacopo. Marco, Marco e Davide. Michael Boswer. Ricordatevi queste pagine, le facciamo noi. Eccoci qua, noi siamo la Luna Bianca Azzurra 1 e la Luna Bianca Azzurra 2. Vado a rappresentarvi il resto dell'equipaggio. Abbiamo Mattia, Stefano, Michele, Alberto. Il nostro capitano, ecco, lui ha la mente. Lui ha progettato tutte e due le imbarcazioni. Quindi ci affidiamo a lui in tutto per sé. Il suo nome è Emanuele, il nostro capitano. Applauso. Applauso. Emanuele Cappella. Emanuele Cappella. Emanuele Cappella. Un applauso. Applauso. Emanuele Cappella. Emanuele Cappella. Emanuele Cappella. Non racconteremo. Non partecipiamo, non si vincere. Ciao, noi siamo tre nostre piani. Siamo in quattro, ma facciamo per cinque. Io sono Ilaria. Io sono Tommaso. Io sono Davide. E io Francesca. Emanuele Cappella. Ciao ragazzi, noi siamo la squadra di Happy House Beer. Alessandro, Riccardo, Gianni. Paolo e Tex. Costruiremo, te lo devo dire, un segreto. Te lo posso dire. Vabbè, è una specie di locomotiva. Ci proviamo. È il secondo anno che siamo qua. L'anno scorso è stato bellissimo. Ci riproveremo anche quest'anno. Grazie. Grazie ragazzi. Vai, basta. La nostra squadra è quella dei girini. E sarà la vincente. E per i girini, vip. URA! Dai, Piggy Power. Walter Nudo. Io sono Elia. Emanuela. Giorgio. Maranza. Sono concentrato. Ragazzi, noi siamo la squadra Tepo Uru. Tepo Uru è la sua barca in Kenya. Che cosa vuol dire nel bialetto show? Tepo Uru vuol dire spirito libero. Spirito libero. E niente, siamo Vile Ernesto, Cavalli Valerio, Sergio Mezzadri, Capone Collorio, Luca e Manuela Torna. Siamo arrivati quarti, quindi medaglia di legno la volta scorsa. Vorremmo ambire a qualcosa di un filo meglio. L'importante è che si galleggi. Poi dopo come finirà, finirà, non c'è problema. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao a tutti! Allora, noi siamo il gruppo Life Boom di Erbalife e siamo pronti per affondare. Sì, assolutamente. Io sì! Ma perché gli altri partecipano? Sono inutili! Abbiamo già vinto! Abbiamo vinto! Allora, io sono Lara. Pepino. Francesco. Alexa. Simona. Vinceremo sicuramente il Titanic! Allora, noi siamo la squadra che sicuramente oggi vincerà. perché siamo i più belli, siamo i più bravi, siamo i più buoni. Siamo i più buoni. Siamo i più Industri across. Allora, noi siamo i più buoni. Con davanti che facciamo e stagionei. Grazie a tutti. 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 a tutti.